L'assessore alle pare opportunità e alle politiche sociali del comune di Pordenone, Guglielmina Cucci, invita alla riflessione sul significato dell'8 marzo, per un cambiamento culturale e un nuovo approccio alle tematiche della parità di genere. L'8 marzo ha il senso di un promemoria, un punto fermo lungo un percorso in continua evoluzione che un tempo si chiamava emancipazione e oggi parità. Le donne sono la metà della popolazione, forse anche la maggioranza, e quindi tutto ciò che le riguarda, riguarda tutti noi, quindi la società intera. Una società che però, e questo è evidente ancora, fortemente patriarcale e androcentrica. Per questo il tema va trattato in maniera trasversale. Il nostro impegno come assessorato e come coordinamento dei 50 comuni della destra tagliamento è quello di sostenere questo impegno nei confronti della società tutta e attivare un cambiamento culturale. Lo facciamo lavorando in rete, coinvolgendo gli enti, le istituzioni, il terzo settore, le associazioni e quindi anche i privati. E soprattutto coinvolgendo le scuole, le giovani generazioni, il mondo dell'arte, della cultura e dello sport, di cui il calendario è solo la parte più evidente. Sul sito del Comune www.comune.pordenone.it slash 8 marzo il calendario delle iniziative.